Bentornati su Radio Design, siamo ora in compagnia del secondo ospite della serata con Oksana. Ciao Oksana. Ciao. Allora, tieni vicino al microfono. Sì, sono qui. Eccoci. Allora, Oksana ha avuto una piccola esperienza all'interno di Ikea, come dobbiamo dire, Ikea o Ikea? Ikea è più figo. Ikea. Ikea, da Ikea. E ci raccontava poc'anzi che Ikea, cioè tu ti occupavi praticamente della progettazione di queste aree, di questi moduli che troviamo all'interno dei cluster. Cluster, cosiddetti cluster. Cluster. Raccontaci un pochino come viene affrontata questa cosa e perché Ikea sceglie questa strategia per rappresentare poi gli oggetti o comunque i mobili e tutto ciò che produce. Allora, prima di tutto vorrei dire che Ikea ha comunque una strategia molto diversa da tutti gli altri negozi di retail. Ok, scusate. La strategia sarebbe quella di puntare sul migliorare la vita delle persone, quindi non tanto per vendere, o almeno lo fa per vendere ovviamente, ogni negozio apre e vende qualcosa per guadagnare. Però il messaggio principale è quello di migliorare la vita delle persone attraverso il design, attraverso l'organizzazione della casa, organizzazione anche della propria vita, perché alla fine la casa non serve solamente per vivere, ma per condividere gli spazi con altre persone, per lavorare molte volte. Quindi come viene organizzata la progettazione anche dei cluster, quello che ho fatto io? Non sempre le scelte vengono dai designer che lavorano all'interno del negozio, anzi la maggior parte dei prodotti che noi inseriamo all'interno dei cluster sono nominati da Ikea Sweden, quindi dai capi. Certo, dalla holding, diciamo dal headquarter. Dipende dal prodotto che loro vogliono spingere, dal prodotto che vogliono vendere di più. Certo. Quindi noi riceviamo solamente il messaggio del tipo, ok, questo mese dobbiamo vendere questo divano, questo armadio, altre cose, e quindi noi il nostro compito è quello di progettare un ambiente in cui ci stanno bene tutti questi oggetti insieme. Ovviamente bisogna rispettare anche gli stili, perché l'Ikea è molto rigida riguardo gli stili. Un cliente che viene all'interno del negozio non li percepisce, ma il designer che lavora all'interno del negozio deve seguire, deve studiare anche diversi stili che poi si dividono in diversi anche sottostili. Niente, è un lavoro molto interessante. Lavorate in team? Come funziona? Cioè c'è un interior designer? O siete tutti interior designer? Solitamente c'è un primo interior designer e poi ci sono altri interior designer. Solitamente sì, si lavora anche in squadra, perché Ikea è un lavoro di squadra, perché si collabora tra tutti. Sì, non ci sta un team di soli interior designer, perché poi gli interiors collaborano sempre con i visuals o con i ragazzi di grafica. Quindi è tutto un lavoro di squadra, è sempre un lavoro di squadra e non è mai una decisione singola. I visual cosa si occupa? Sostanzialmente di... Rappresentazione visiva del prodotto. Il loro compito, diciamo che interior designer è quello che fa vedere la funzione del mobile. Ok. Quindi se è una tazza, io devo far vedere al cliente a che cosa serve questa tazza. Ok, dal punto di vista funzionale. Esatto, quindi se deve stare così, deve stare così e basta. Un visual la può anche rappresentare in questo modo, anche in vetrina la può posizionare in un modo diverso, perché non deve far vedere a cosa serve questa tazza. Dal punto di vista estetico. Esatto, deve colpire il cliente e convincerlo di dire, guarda, è bello questo oggetto, lo devi comprare e lo devi portare a casa. Ok, il grafico invece come subentra? Il grafico subentra con la comunicazione, un messaggio. Cartellini. Esatto, sì, oppure il prezzo, che ovviamente anche il prezzo ha un ruolo importante all'interno del negozio, perché deve comunicare il potere, perché il cliente ha un diverso potere d'acquisto. Certo. Io ho una domanda fighissima. Quando fai il percorso, qual è la logica che segue Ikea nel mostrare questi cluster? Perché lì c'è un percorso obbligato, no? Esatto. Quindi è un discorso che è legato al prezzo, è legato agli ambienti più importanti, come funziona? Non dipende dallo stile, non dipende anche dal potere d'acquisto. Tutti i negozi Ikea seguono un percorso. Sì. Molti clienti si lamentano di questa cosa, perché ovviamente sono costretti a attraversare tutto il negozio. Magari se tu sei già con l'idea, mi serve un divano, vai ai divani, mi serve una cucina, vado alle cucine. Però in questo caso devi superare, a meno che non sai le scorciatoie. Ovviamente i dipendenti conoscono tutte le scorciatoie, quindi tagliamo subito. Ci sono dei muri che puoi superare. Esatto. Sono delle scorciatoie che sono praticamente invisibili per un cliente, ma per noi è un po' diverso. Immagino che giocano magari a nascondire un tanto nello store. Sì. La sequenza è questa, la prima area è sempre quella dedicata ai soggiorni, che è quella più vissuta da tutte le famiglie, all'interno di un punto focale di una casa. Sì. Dopodiché seguono un po' la parte delle librerie, comunque sempre una parte destinata al soggiorno. Il secondo, la seconda parte sono le cucine, quindi un altro dei punti focali. Poi ci sono le camere da letto e poi l'area destinata ai bambini, perché ovviamente l'IKEA dà molta attenzione al living with children. E poi adesso ci sta anche la parte dedicata agli animali, quindi una particolare attenzione anche a questo. Sì. Poi ho notato che ci sono anche, ad esempio, un sacco di aree dove trovi, che ne so, il particolare oggetto, che è quello che dicevi te, cioè che vogliono spingere di più, no? Sì, esatto. Vedi spesso in, che ne so, un'area dedicata proprio a quel tipo di oggetto. E poi ci sono quelle aree invece dove trovi finali, dove trovi tutta la roba, no? Sì, sarebbe il mercato, quindi la parte... Finale? ...zero, sì. Bene, bene. Quindi tu vieni... Sapevo la risposta, ma volevo avere una risposta più specifica, è una logica, effettivamente. Quindi si parte da dove si vive la casa fino ad arrivare all'animale. Sì, perché diciamo che la parte iniziale è la parte ispirazionale. Certo. Quindi un cliente arriva, viene ispirato, dice sì, lo voglio, mi vuole portare tutto a casa. Infatti, quello di cui ci lamentiamo noi, i dipendenti, è che la parte, tutta la parte di sopra viene portata puntualmente alle casse, che è quello che non dovrebbe essere fatto. Infatti anche io da profano ho detto, adesso lo prendo, no, c'è il codice, lo devi prendere giù. Esatto, quindi leggete bene le etichette, sì, quindi arrivi lì con il codice, ok, vuole questo, arrivi a una parte del mercato e acquisti quello che vuoi. Bene, questo è stato molto interessante come cosa, molto figa. C'è qualche progetto in atto per modificare questo, diciamo, modo di esporre le cose o rimarrà ancora per molto tempo? Ok, l'IKEA, come tutti gli altri negozi, un po', come tutte le altre aziende, si sta adeguando anche al mondo virtuale, quindi alla vendita online, quindi alla creazione anche dei punti vendita un po' più centralizzati anche nei centri urbani, quindi degli store molto più piccoli come Pickup Store, dove tu vai praticamente a ordinare, sì, oppure ovviamente seguito anche da un venditore, che ti aiuta a progettare anche nello stesso punto, come il Pickup Store, la tua cucina o il tuo soggiorno, quello che probabilmente online non potresti fare, perché magari non ha il suggerimento di un esperto, quindi anziché di andare al negozio, magari qua a Perugia infatti non ci sta. No, c'è da un mese con le strade. Ah, ok. È appena arrivato. Lo store è molto grande. No, quello grande no. Esatto. Hanno rinunciato, hanno fatto quello piccino. Sì, quindi è anche un aiuto per il cliente. Certo. Che non deve spostarsi. Quindi io vado lì e mi fanno anche un render di come verrebbe la stanza. Sì. Ah, figo, figo. Va bene, Oksana, è stato veramente un piacere, grazie mille. Grazie a Felice che ti ha portato in questa splendida intervista. Lo ringrazio dopo. Stanno partendo le minacce e allora chiudiamo e se poi ci trovate sui giornali sapete perché.